Sono partite veneriscorso le lavorazioni preliminari alle demolizioni, allo strip out e alla bonifica di tipo ambientale di tutto l'intervento di riqualificazione dell'edificio NBIC, che è un edificio storico, ultimo tassello che è rimasto nella riqualifica del Porto Antico di importanza fondamentale inserito all'interno del programma straordinario. In particolare oggi sono autorizzate al lavoro circa 15 persone che hanno come scopo quello di andare a preparare tutti i percorsi necessari per fare i censimenti e le successive demolizioni. Alle mie spalle si vedono i tecnici che stanno facendo le ispezioni sulle strutture che permettono poi di realizzare esattamente questi percorsi lavorativi. Tutte queste lavorazioni consentiranno al cantiere di poter partire con la produzione, con la lavorazione vera e propria che durerà quattro anni. Grazie a tutti!